ti prepariamo la lobby mentre spiego il regolamento tutte quante le cose allora possiamo cominciare con le regole allora siamo pronti? sei prontissimi allora come avete già visto la mappa è una semplice zone wars stile quella delle 32 player quella già conosciuta corridoio zone wars scappi sopravvivi buildi spara via ogni persona però spawnerà e avrà un power up specifico in base a un personaggio degli anime che vedete già nella copertina della mappa ok ho passato 16 personaggi quindi ognuno ne avrà uno di quelli lì tra Goku Eren Deku One Punch Man Itadori Gojo Zoro One Piece tutte quelle robe lì insomma ognuno avrà i set poteri che sono spiegati nella immaginetta che vi compare oltre a audio personalizzate che partono per ogni cosa quindi non jumpscareatevi se ancora non avete capito che partono audio per le morti per attivazione dei poteri eccetera i punti vanno dati per ogni win quindi chi vince una partita becca un punto faremo un totale di 25 round quindi durerà un'oretta circa perché comunque è rapida dura massimo due minuti la partita eeeh basta chi sono? ho un figlio di una mignota vediamo un po' vediamo un po' io direi di non pusharne i box iniziali per l'amor di dio eccomi mi è andato lo shuriken io non so manca che cosa devo fare per tirare potere oh dio hai tipo un dispositivo alcune volte si l'ho appena notato sto panicando perché non so che fare non si spammano va di brutto guarda è bruttissima sta cosa che content esotica chi è questo qua porco di asmarino sta un po' picciato ansiedà sì per tutto canale di te eeeh calma io sono ero 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 Andata Oh, chi è spara? Eh? No, ma se l'hai che fu il setappato, no No, non sono io tranquillo Smigli con lo spadone, credo che stia bestemmiando Dai, ma che cazzo Che cazzo ho visto quell'hai che se sei tesso è uno stronzo No, non ti pare Il muetto messo che non riesco a spaccare con la mitra, malissimo Ma qualcosa mi dice che i Nike c'hai fesso No, non c'hai fesso, signori No, giusto C'è Che c'è il potere che spacca le build perché i Nike Eh, non ce l'ho Messo qua è quel coglione di Mandy, sicuro Attenzione Attento, mandorla Ah, ma è Mickey invece, non è mandio Io, 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 io Sono buone le mandorle però, eh Sì Perché se non ho vinto, scusatemi Perché c'ho ancora vivo io e fe Ma sei serio? No, no way No, cosa ho appena visto Ma che è? Non troppo ci fosse un altro vivo Eh, qua c'è la sorpresa Porco diaz Niente C'era la sorpresa Mi sto segando Mi sto segando Cos'è quel gelato magico? Quanti colori ho? Era il gelato della manos di Dio Cazzo dico E quanti ne avevi ancora? No, l'avevo appena finiti C'evo se... Merda Eh, però vabbè, avevo 12 secondi ancora Ah, ok Se ti craccavo ancora di più era meglio Che porco diaz' è sta roba? C'entra questo, non è quello È questo qua dove li vedo Che cazzo è sta roba? Calma, brother, calma Na, na, na Rotation Silver esotica No, è stato male Per tacitazione La situazione è critica qua comunque, signori, eh Sento un silenzio molto, molto tryharder Marinovski Ehi 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 Non ci sto capi in cazzo, ragazzi C'è troppa roba qua in mezzo Proprio, è proprio lui, mi uccide Le fesso Oh no Entrato Entra! Ma il stress O non è Madre Teresa di Calcutta Volato Ho visto un certo Davy Naig Immagino che anonimo è Efesto Conciremo Ok Attenzione È contro il creatore della mappa, signore Efesto Il push del Dave Io mi ammazzerei, dai, sincero Mi rispetto No, no È rimasto in vita Ah, nessuno Ora gioco Ora gioco da fiducia Chiama Chris Uh, grazie rubano La nostra roba non la userò mai No, stessi poteri Anche io Ciao Detta Anche io Ma Ma Nona Rossi Ma 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 no 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 è illegale starò no Bravo Gilde Perda Stavo facendo la giocata Cazzo dai Nike Regardano Regardano pure io Il signor Chris sta prendendo troppo a strada per i biguzzi Eh Ma è già pronto il video Mi insultano tutti e vinco il torneo Sì sì Già sta preparando il tiktok Faccio volare il tiktok Mi insultano Assultano e prendono il cazzo Attenzione Il riloppo Sì che cazzo è entrato Eh ma danni per due poi Niki Prega Gesù Non prego non prego Andata Eh no no E' vero devi fare per forza E ve ti dirò la vinci Sì ovvio che la vinco Ovvio Ok che c'è danni per due quello Efe Ah sì Eh sì Ti tira una bella pigna Eh vedo One shot con quel pompe Eh sì Mi ha one shotato due volte Cioè mi ha tolto 150 due volte Ah Efe 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 Efe